Bene, allora, volevamo tutti, un gran colpo l'abbiamo fatto, ognuno così speriamo. Tutte le premesse sono per pensare così, poi vedremo sul canto. Io sono molto contento, non ho accolto l'altra volta, non è che abbia visto molto il disastro. Io sono Derek Marcus, sono da Chicago, Illinois. Io ho due domande. La prima volta, la prima volta, l'abbiamo in Tortona. E voglio ringraziare il Presidente, i coach e il staff per permettere di avere questa possibilità. E sono molto felice di essere qui. Ciao, ciao. Ciao, Derek Marcus, vengo da Chicago, Illinois. L'anno scorso giocavo a Tortona, sono molto contento di essere qua. E ringrazio il Presidente e lo staff che mi ha accolto qui in Ravenna. Allora, io ho due domande. La prima è se si può usare una autodescrizione di che tipo di giocatore è, pregi e difetti. E la seconda è perché ha scelto di avere. E due domande. Vi faccio. Descrivi a te come player, direi quali le vostre strenze, quali le vostre vingi. E quali le vostre strenze in gruppo. E, Ascuna, come hai scelto di Ravenna? Ma come partita? Ma tendo un giocherino, scorer, ragazza Gracchi per la seconda I tengo un buon duellezioni, un buon liderazgo E' un buon gol. Imani i mi dico tutti i tuoi spiegelare Non puoi sempre essere buoni a qualcosa E' molto importante. E' un buon miglioramento. Sono sicuramente un giocatore offensivo, che segna, che porta punti, io sono un play che gioco anche la guardia, sono anche un leader in difesa, in generale, quali punti di debolezza in generale sono una persona che vuole migliorare perché nessun giocatore è mai la sua leader di direzione al massimo, quindi puoi lavorare per migliorare in tutti gli aspetti. Io ho scelto Rufinna perché sento che questa era la migliore situazione per me, ho un buon coach e assistente, un buon presidente dietro a me, e sento che posso fare il mio migliore come giocatore. Presidente in gamba, con cui hanno trovato subito un buon feeling e poi lì la società seria, il presidente, il direttore, quindi sicuramente una scelta fatta capendo qual era la società e lo staff che lavora in questa società. L'arrivato è subito messo nel bierino, nel vostro campagna rafforzamento lui? All'inizio era un frutto impossibile da prendere, ok? Primo perché aveva lui delle aspettative di poter andare in Serie A e quindi di capire se potevano esistere per lui situazioni in cui prenderli in considerazione. poi il treno della Serie A è sfumato e allora poi su di lui ci sono state una serie di società più importanti, con l'aspirazione di giocarsi in campionati via di seguito, però c'è stato un momento in cui lui è rimasto così in sospeso, in una situazione di attesa, noi ci siamo infilati in quella situazione lì, abbiamo fatto una proposta, abbiamo detto qual'era la situazione tecnica, quali erano le possibilità da luce professionale a Ravenna per la sua carriera e per il suo futuro e lui ci ha riflettuto e ci ha dato una risposta tempestiva e quindi poi gli si è raggiunto questa possibilità che alcune settimane prima era impossibile da sognare. Una volta che ha scelto Ravenna, da curiosità, ha fatto qualcosa per cercare di ambientarsi più in fretta possibile nell'accettarsela. Si è andato a guardare, come diceva il Presidente, gli highlight delle partite dell'anno scorso oppure ha chiesto informazioni circa i compagni, il coach, la società. Ok, questa question, so once you sign and decide to come to l'arena, what are you down to know the city, to know the team, do you get any contact with the guys or look for information, watch some matches of the past season, how do you get your first contact with the city? Well, before I sign, the first thing I did was contact with Taylor. And then I just talked to him about the team and how his experience was in the last year. And then I just talked to a few of my veteran teammates from last year, because I knew they were around more. And I just heard all good things from them. And that's why I just decided to come. And I just got here yesterday. So I didn't get a chance to see too much of the city. But actually me and Taylor are about to do that when I leave Phil. So... He said, sicuramente il primo contatto l'ho con Taylor, l'ha cercato Taylor per chiedere informazioni a lui, visto che ovviamente ha fatto una stagione qua. E poi ha chiesto anche, ha avuto dei contatti, ha chiesto anche con i suoi ex compagni di trattura dell'anno scorso. Per cui noi conoscono le realtà dei nostri campionati. E ci avrebbero ricevuto informazioni positive da tutti. E poi diciamo qua sono appena arrivato. Quindi la conoscenza viva, diretta qua in città, inizia da oggi, inizia di fatto. Why number eight? I'm a big Kobe Bryant bet. A question? Stando l'anno scorso nell'alto girono conoscere qualcosa di questo girono del girono est sa che andrà incontro a molti derby quest'anno. In una season you played in the West. Do you know something about the East tournament? We have a lot of derby. Matches against New York City or New York City. Do you know something? Non lo so perché l'ultimo gioco ero nel sud, ma quando c'è un derby, so quanto significa a tutti, quindi questo mi fa voglio giocare al mio best, perché io ho sempre voglio vincere. A me personalmente mi stimano tantissimo, perché mi piace vincere, quindi sicuramente quelle partite ci sarò stimolato a dare ancora di più. Quest'estate ha staccato completamente la spina dopo il campeonato, oppure ha fatto qualcosa per preparare la pre-season? Qual è stato il tuo lavoro durante il summer periodo? Rilassatevi, rilassatevi o vincere? L'ultima settimana abbiamo finito la play-off in May 30, poi arrivo in June 1, poi faccio due settimane, poi dopo due settimane ho lavorato tre volte per giorno, e ho fatto due settimane di vacanza, e dopo ho ricominciato a venerarmi tre volte a settimana sempre per tutta l'estate. che è stato fatto? Grazie. Grazie. Credo che abbiamo bisogno, in questo team, in questa squadra di tutti i vostri posizioni, di fare punti nel giro del gioco. Perché l'ultima settimana abbiamo avuto da la partita, perché l'ultima settimana abbiamo iniziato un grande gioco, ma i punti avvoli, spesso in ultima quattro, quando la gioco è stato deciso. quindi credo che per questo team, è importante che ci sia un continuo di punti in ogni quattro, è una delle caratteristiche? Scio a tutti, come hai detto, come acc!! come ho detto, come ho scoperto, come ho scoperto, come ho scoperto, che è stato fatto e la parte che è stato a rispire, è un ruo che è stato male colo, che sono i miei amici, quindi credo che sono una delle mie stagioni, e questo è il motivo che non ho lavorato così hard questo summer, per cui potrei scorrere il gioco e fare gioco, e riuscire i giocatori quando ho bisogno. Derrick risponde assolutamente, come ho detto anche prima, il fatto di osservare uno score è una delle mie caratteristiche, ma allo stesso tempo è chiaro che non dovrò sognare solo io, anzi c'è una squadra che ci sono altri giocatori con i punti nelle mani, e il motivo per cui ho lavorato tutta l'estate è stato anche quello di migliorare la possibilità di fare entrambe le cose, cioè di sognare e far sognare gli altri. La sua carriera, il Presidente ha venuto in Italia o passato prima ad altri paesi? Potremmo raccontare un po' di sua carriera, quindi quello che hai fatto negli USA, e prima di arrivare a Totoa last'ora? In scuola ho venuto a Boise State, ero un all-in-parriere, ero l'invito di conferma, è un all-in-parriere. Perciò questo è un all-in-parriere? Oh, no, no, questo è già... No, questo è un all-in-parriere. Quindi, l'all-in-parriere della scuola è un all-in-parriere, non è un all-in-parriere. In scuola ho venuto da più di scuola, quindi il nostro pianista è un all-in-parriere. Ma il primo è solo essere un vincitore, penso che sia il meglio che porto alla tavola. Quindi questo sarà sicuramente qualcosa che voglio portare qui. E' lì che ho costruito la mentalità del vincente, costruito la mentalità del giocatore che gioca per vincere. E poi dal collega ovviamente è venuto qua in Italia allo scorso del giocatore. Curiosità, fidanzato, sposato? You understand, fidanzato? Are you a fidanzato? Like a girlfriend? No, sono singolo, ma io ho avuto le applicazioni, quindi io sono 22 anni. Venti due? Sono singoli, però accetto le candidature. Se conoscete ragazzi di 22 anni, sono a disposizione! Non lo so. Che mi stanno molto tempo. Out of the one. Benaffol. Benaffol. Chicago. Is this a defa per il MBA? Which MBA club do you support? Uh, Chicago Bull. I'm loyal, you know. I'm loyal. I love Michael Jordan. No, we didn't trade it there for us, but it's okay. Still a Bulls fan. E degli italiani in NBA? Bargnani? Oh yeah, Bargnani, Bellinielli. He was with the Bulls, so I didn't know about him, but that's about it, really. Thank you. Thank you all.